Gruppo Unipol è il realismo magico, partiamo nuovamente su Milano con una nuova rassegna, quindi torniamo sulla pittura dopo altre mostre fatte in altri ambiti. Milano per noi è una piazza importante, è la più grande piazza finanziaria, è un rapporto stretto, ci lega con questa città. È una pittura di estrema qualità, è una pittura forte, potente e nello stesso tempo però intima, è una pittura che instilla il senso del dubbio e quello che vorremmo è che il pubblico che viene a visitare questa mostra si ponesse nell'ottica di guardare la qualità ma nello stesso tempo di aprirsi a quel mistero sostenuto dall'aggettivo magico che accompagna la parola realismo. Sono immagini che sembrano assolutamente reali, assolutamente chiare e nello stesso tempo contengono qualcosa di assolutamente misterioso. C'è una lezione importante che riguarda la pittura italiana nel ventennio fascista. Esiste una pittura che anche se non chiassosa e a voce alta ha saputo esprimere un dissenso, l'assenza di immagini che riguardano patria, famiglia, lavoro, l'assenza di questa retorica dice moltissimo di quegli anni e questo è un insegnamento importante perché alle volte l'assenza delle norme e delle regole dettate sono più eloquenti di tante parole. Perché venire a vedere questa mostra? Perché è un'esibizione di pittura di grande qualità. È un'aria di libertà che si respira in queste sale anche se di grande inquietudine e ambiguità. Venite a vedere questa mostra perché Palazzo Reale è uno dei luoghi più belli per vedere pittura ma soprattutto perché il realismo magico ha come filo conduttore il ritorno alla concretezza, il ritorno all'ordine. In questo momento forse c'è bisogno di un po' di concretezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.